E a proposito di frutta e verdura, arriva un aggiornamento, lo sottolinea la Col di Retti, via libera a 1.2 milioni di italiani che fanno gli agricoltori per passione, coltivando appezzamenti di terreno pubblici o privati per garantirsi cibo genuino e trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Dicevamo, è una sottolineatura che arriva dalla Col di Retti e che in qualche modo diffonde una domanda ricorrente, una FAQ, sul sito del Governo, quindi è qualcosa che può essere rintracciato anche dai semplici cittadini. Dunque via libera per gli agricoltori fai-da-te in qualche modo, ad uso privato, importantissimo avere comunque un'autocertificazione all'interno della quale compaia il titolo di possesso della superficie agricola produttiva e che quella superficie sia effettivamente adibita a fine agricolo con l'indicazione del percorso più breve da casa alla superficie agricola stessa. Tutto questo ovviamente fatte salve norme diverse che arrivano da ordinanze regionali e noi ci occuperemo di approfondire questa notizia che in Toscana soprattutto riguarda davvero molte persone. L'abbiamo detto un milione e duecentomila in Italia. In questo momento ci sono 27.000 domande di cassa integrazione in deroga, un dato che riguarda la nostra regione e ce ne parla, ne parliamo in questo servizio con un'intervista all'assessore regionale.